Mediaset ha ufficialmente annunciato che Barbara D'Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5, uno dei programmi di punta della rete. Il Biscione ha ringraziato la celebre presentatrice campana e ha specificato che il suo contratto scadrà nel dicembre 2023. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Inoltre, hanno assicurato di cercare nuovi progetti per lei. Attualmente, Barbara D'Urso si ritrova quindi senza un programma e sembra essere quasi fuori da Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, Mirta Merlino prenderà il posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Merlino ha condotto per anni l'aria che tira sulla sette e pochi giorni fa ha annunciato di lasciare la rete di Urbano Cairo. Gli esperti del settore hanno subito intuito che la giornalista aveva trovato un accordo con Mediaset, ma pochi pensavano che sarebbe stata proprio lei a sostituire D'Urso. Eppure sembra proprio che sarà così. Mirta Merlino prenderà le redini del talk show di Canale 5. Questa scelta da parte dei vertici di Mediaset si inserisce in un cambiamento avviato circa due anni fa, caratterizzato da una maggiore sobrietà e meno trash. Merlino è una figura in grado di affrontare temi politici, di cronaca e di intrattenimento con un taglio strettamente giornalistico, simile a quello di Alberto Matano, che ha ottenuto grande successo con la vita in diretta su Rai 1. Al contrario, Barbara D'Urso è stata spesso associata a una televisione trash, con salotti popolati da personaggi stravaganti. Mediaset ha deciso di cambiare rotta e ha individuato in Mirta Merlino la persona su cui puntare. L'annuncio ufficiale dell'ingaggio della giornalista dovrebbe avvenire durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024, prevista per il 4 luglio a Cologno-Monzese. Ecco il comunicato ufficiale di Mediaset riguardante l'addio di Barbara D'Urso a pomeriggio 5. Canale 5 e Barbara D'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali. Cosa ne pensate? Vi dispiacerà non vedere più Barbara in televisione o approvate la decisione di Mediaset? Lasciateci i vostri commenti. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.